Durante l'operazione di sfratto esecutivo, l'ufficiale giudiziario è intervenuto per recuperare l'appartamento ereditato da una studentessa di Ostia, a Roma. La ragazza non ricordava l'esterno dell'appartamento della nonna e ha indicato l'ingresso sbagliato. Le forze dell'ordine hanno sfondato la porta e si sono ritrovati in casa del questore di Roma, Carmine Belfiore. È stata buttata giù la porta sbagliata. Quando è stato scoperto l'errore, l'irruzione nella casa del questore ha creato un grande momento di sconcerto e imbarazzo. La studentessa romana, come riporta Repubblica, ha ereditato la casa della nonna e non ricordava con precisione quale fosse la porta di ingresso. La casa era stata occupata da un inquilino che non pagava l'affitto. Per consentire alla ragazza di entrare in possesso dell'appartamento di Ostia sgomberando l'inquilino, è stato necessario richiedere lo sfratto esecutivo. La giovane ricordava soltanto l'interno della casa, non l'esterno. Si è recata sul posto accompagnata dalle forze dell'ordine, dall'ufficiale giudiziario e da un fabbro. Ha indicato ai carabinieri l'ingresso che, secondo lei, poteva essere quello giusto. Hanno sfondato la porta e si sono resi conto dell'errore. Non era quello l'appartamento soggetto a sfratto esecutivo. Immaginate l'imbarazzo di rompere in casa di una persona sbagliata, e di scoprire che quella persona è il questore di Roma. Il questore Carmine Belfiore, nominato lo scorso novembre, pare non abbia reagito male. L'equivoco non ha portato a conseguenze. Una volta capito il grossolano errore, quasi comico, le forze dell'ordine e l'ufficiale giudiziario sono usciti dall'appartamento. La porta del questore è stata subito rimessa a posto. È stato individuato l'appartamento giusto, ed hanno proceduto con lo sgombero forzato dell'inquilino, che si era piazzato abusivamente nell'immobile, senza pagare l'affitto. Che ne pensate di questo imbarazzante errore? A voi i commenti!